ecco l'intente l'intente sembra tardi io tirò la camera guarda che guarda che ora sta meglio sembra meglio sembra meglio sembra stella proviamo a provare proviamo a provare proviamo a provare proviamo a provare con Asir o no, Karol è stato il che ha detto prima Karol sta qui, venga 4 esercizio 4, la lista 3 simples Karol è l'amismo proviamo a provare tutto il mondo secondo la lista compra prov lo che va a fare superficie z 2 y più y 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 e e e e e e e e pensare questa è nostra regione e 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 o e 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 então como calculamos f como encontramos quem é f trocamos na equação que tem o z trocamos f de x f de x y por z então nesse caso é bem simples fica f de x y igual a 2 vezes x y ao quadrado si e agora vamos a representar isso que está aqui para encontrar o domino se então nos diseñamos isso no plano se bem então nos diseñamos esas duas curvas que están aqui no plano e como fica e isto é temos que diseñar a inversa e aqui diseñamos a inversa e temos que rotar os gráficos usuais se você pensa em y igual a x ao quadrado o gráfico é assim então o gráfico de x igual a y ao quadrado vai ser assim é se não explota a superfície é então esse gráfico é assim e o gráfico de y igual a x ao cubo é assim portanto o gráfico de x igual a y ao quadrado vai ser assim e então como é? não é é possível não é assim é assim então isso que está aqui fica vamos comer vamos comer crece mais rápido estou gráficando mal isso aqui tudo mais é para isso tudo mais é para isso tudo mais é para isso olha tem que a coleta e e é é é é bem ruim o desenho mas está tudo bem eu vou opa sim é isso que está aqui então eu vou apagar isso que está aqui aqui e fica e fica claro uma coisa assim que então o que nos interessa é essa região aqui que é essa região que está aqui é o que nos interessa que é essa que está aqui que é essa região que é essa região aqui? esse ponto é quando se intersectam as duas curvas então aqui as duas curvas se intersectam quando? quando y cubo quando y cubo é igual a y cuadrado e e e e isso quando acontece? quando y uma opção é y igual a 0 sim agora se y não é igual a 0 se y é diferente de 0 podemos tirar em evidência os y quadrados que temos aqui fica y igual a 1 sim? então esse ponto é o ponto quando y é igual a 1 e portar quando e como é? isso quando y é igual a 1 portanto y é igual a 1 também está certo? bem então o y varia entre 0 e 1 sim? quando projetamos isso aqui vemos esse intervalo vamos pensar como tipo 2 sim? é mais simples y varia entre 0 e 1 e o x varia entre essa curva e essa curva entre essa curva e essa curva que já sabemos que são y essa curva é y cubo e a de cima é y quadrado tá bom? e é isso opa tem um momento pessoal agora eu vou atualizar o não sei se há de jantos ou não é? pintar 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 o tópico tf como é que é negativo? tem que dar positivo? vamos fazer então que queremos calcular? a integral entre 0 e 1 a integral entre y cubo e y quadrado você escreveu y cubo e y quadrado ou ao contrario? y quadrado e y cubo porque é isso tá isso trocou sinar isso trocou sinar porque é se y vamos pensar em com as funções x cubo e x quadrado sim? e a função x e também vamos fazer raiz de x sim? intuitivamente você diz tá y cubo é maior que x quadrado que é maior que x que é maior que raiz de x porém essas desigualdades sim? são verdades se x é maior que 1 se x é menor ou igual que 1 são ao contrario as desigualdades sim? nós temos raiz de x uma x outra x quadrado a outra e depois x ao cubo sim? isto é o gráfico de raiz de x isso é x isso é x isso é x quadrado e isso é x ao cubo sim? então entre 0 e 1 as desigualdades são contrárias sim? troca depois de 1 depois de 1 temos isso aqui troca de onda está usando a figura de f na 3 fiquei perdido nisso é então separa separa e grafica em dimensão 2 encontra tem tem uma equação que vai te dizer que é a f que você tem que integrar e tem as e e as outras vão utilizar a região de integração então qual era a pergunta? Carol perguntou Carol é a Carol de hoje da turma TN? 4 da lista 3 simples tá hoje foi o dia de estudar cálculo 4 tá vamos a fazer então qual é que está? temos o quadrado o quadrado si? este o quadrado 0 e 1 vamos a chamar que? e temos un paralelogramo se? então temos dois casos e queremos T tal que elevamos o quadrado no paralelogramo pela T então temos dois casos se? o primeiro caso é que a origem que a origem é um vértice do paralelogrammo che, per esempio, o primo e o tercero sono in questo caso, quindi siamo a fare o tercero abbiamo il vettice 0, 0, meno 1, 1, 1, 1 e 0, 2 il paralelogrammo inducito per questi 4 vettici è un paralelogrammo così questa è la origine, questo è il punto 1, 0, questo è il punto è disculpa, 1, 1 e questo è il punto meno 1, 1 e qui abbiamo il 2, 0, 0, 2 allora, noi vogliamo una t che eleve questo quadrato a questo quadrato quindi, se il origine è un vettice del paralelogrammo allora, t può essere una trasformazione lineare e come facciamo questo? bene, lo che vogliamo fare è inviare per una trasformazione lineare o questo vettice, questo il vettice qui in questo vettice e siamo a inviare questo vettice in questo vettice in questo vettice e con questo è sufficiente una trasformazione lineare che eleva il vettore 1, 0 nel vettore 1, 1 e il vettore 0, 1 nel vettore meno 1, 1 va elevare necessariamente questo quadrato in questo paralelogrammo sì? perché? perché le trasformazioni lineare sono buone con la somma e i prodotti escalares dei vectori che vuoi dire questo? questo punto che sta qui se lo pensano come un vectore è la somma di violetta con di vermi sta chiaro è questo? è il vettore se c'è una trasformazione lineare la immagine va elevare il verde che ha sommato il violetta con il vermelio nella somma della immagine del violetta con il vermelio quindi se mi ha elevato questo vettore in questo vettore e questo vettore in questo vettore ha elevato questo vettore in questo vettore sì? e anche di questo le trasformazioni lineare levano poligono in poligono sì? con questo necessariamente la immagine del quadrato deve essere questo lozano qui ok? sono propietà delle trasformazioni lineare sì? bene bonitini quindi e come facciamo quindi queremos una trasformazione lineare T tal che T do 1 0 sia il vector 1 1 e T di 0 1 sia il vector meno 1 1 quindi ho una formula ho 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 una formula simple di fare questo però ho 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 che è il che è il che è necessitiamo una matriz A, B, C e D tal che A, B, C e D per il vector 1 0 sia il vector 1 1 sì? bene ma questo prodotto qui se voi facendo la conta va essere A per 1 la prima coordenata ma B por 0 o sia A mais 0 e na segunda coluna vai ser C por 1 ma D por 0 C mais 0 isto è AC quindi queremos che questo vector qui sia questo vector qui sì quindi il A deve essere 1 e il C deve essere 1 B quindi abbiamo già trovato qui è A e qui è C ora queremos che A B C e D x 0 1 sia vector meno 1 1 1 e se agorra facemos isto qui o que vamos a obter è la seconda coluna B D quindi o B ha di essere meno 1 e il D ha di essere 1 quindi la matrice è la matrice 1, 1 meno 1, 1 e come arriviamo a questa matrice? lo che abbiamo che fare è questa è la esplettiva un 0 in questa è parte, in particolare e E pronto, questa è la transformazione, questa è la T, la T è la matriz da T, o sello, se non fico chiaro qual è la magia delle transformazioni lineare, una propriedade è importante per le transformazioni lineare. Se un pego a matriz, una matriz qualche, la prima coluna, questa è, a immagine, due vector, un zero. E questa prima coluna qui, la seconda coluna è, a immagine, due vector, zero. Allora, questa è la dimensione 3. Suponiamo che abbiamo una matriz A, B, C, D, E, F, Y, A, K. Abbiamo una transformazione lineare di R3, che scriviamo come prodotto di questa matriz, per le vector Y, Y, C. Quindi, la prima coluna della matriz è T, lo vector, un zero, zero. La seconda coluna della matriz è T, lo vector, zero, un zero. E la tercera coluna della matriz è la immagine, lo vector, zero, zero. Perciviamo come diverse, un zero. E questo è che sono matriz, sì? Sì? La matriz è, può essere come una transformazione lineare, sì? E questo lo che dice, da ogni termine come una transformazione lineare, sì? così è come facciamo quando il zero è un vettice del pariogrammo, se zero non for un vettice, primero trasgadamos o pariogrammo per che a origen, si a origen, per a che origen sia un vettice e poi facciamo quando la origen è un vettice del pariogrammo quindi se la origen è un vettice del pariogrammo lo che dobbiamo fare è prendere due vectore ma importa quali você escolhe non è s e s deve essere s e s perché in un pariogrammo dove la origen è un vettice quindi teni che un vettice è a somma dei altri due quindi ti devi scogliere questi due che facendo che sia a somma e poi se non for se non for diciamo perché abbiamo il formato il vettice del pariogrammo di coordenata 0,1, 1,2, meno 1,2 e 0,3, si, a origine sta qui, 0,0. Então, se eu defino S de V como sendo U mais U e V mais 1, então, isso vai elevar, então, isso leva esse paralelogramo que está aqui em esse paralelogramo que está aqui, porque esse paralelogramo que está aqui é trasladar esse paralelogramo que está aqui na direção 0,1. Esses vértices adicionam 0,1 e você obtende esse vértice aqui. Então, isso que está aqui é V mais 0,1, si, está bom? E, depois, para calcular o que está aqui, colocamos essa matriz. Então, se definimos T chapéu de U chapéu, V chapéu, como sendo 1,1, menos 1,1, por U chapéu, V chapéu, mais 0,1, si? Então, que vai fazer? Es que são disso aqui, por enquanto? Esa parte que está aqui vai elevar o quadrado no paralelogramo, si? E isso é pelo que fizemos aqui. E quando adicionamos 0,1, o que estamos fazendo é trasladando para cima, si? Trasladando por esse vector, então vamos elevar, então vai elevar o T chapéu vai elevar o quadrado em esse paralelogramo e depois esse paralelogramo em esse paralelogramo aqui, tá bom? Então, se vocês querem, T chapéu de U chapéu, V chapéu vai ser, então podemos simplificar isso aqui, né? O chapéu vai ser, é, U chapéu, menos V chapéu, U chapéu, mais V chapéu, mais 1. Bom, mais perguntas? O Moacir está ainda? Vamos remover se tinha perguntado algo, aqui está um, nada, não tem dúvidas? Pronto. 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 Qual è l'exemple che ho detto in l'Aola di Lissontes? A ver, andiamo a procurare. Lissontes... Qu'è parte? Qui nel final che ho fatto? Lissontes... E questo? Lissontes... Come ho fatto per ricordare queste matrize? Come ho fatto per ricordare queste matrize? La notazione di A meno di teta sempre è una matrize... ...è una matrize associata con seno di teta, meno seno di teta, seno di teta, seno di teta. Quindi per questa raggiungo, il racionamento è analogico. Quindi... Come ho fatto? Non c'è problema. Acrescentando al zoom... Come ho? Come ho? Ate rotazione di angulo meno pi sobre 4. E... E... ...è... ...sobre la raiz di 2. E... 1 sobre la raiz di 2. No... come ho? Ate... ...ate è questo. in total 45 gradi Fica Assim Tá, então Os vértices São Os vértices são esses aqui Temos vértices 1 0 2 0 0 menos 2 0 menos 1 E a função qual é? É a É a Calculo que é Y mais Y Sobre Y menos Y É isso Isso é F Bem Tá, então Primeiro queremos R Tá, isso é a T Então queremos R 1 Queremos R tal que T, J e R Seja nossa região de Sim? Então Pra isso Necessitamos Então Como encontramos R? Bom T a menos 1 De D Tem que ser R E pra isso Invertimos A transformação T A inversa Da rotação É a rotação No sentido contrário Portanto T a menos 1 De U V Não T a menos 1 De X Y Sim Vai ser A rotação De 45 graus Que é 1 sobre a raiz de 2 1 sobre a raiz de 2 Menos 1 sobre a raiz de 2 E 1 sobre a raiz de 2 Ah, desculpa Sim Tá, vamos de novo Temos essa nossa função E essa é a T Que é a rotação De menos 45 graus E isso Aham É Sim, então T a menos 1 É rotar 45 graus Então T É rotar Menos 45 graus É o mesmo Raiz de 2 Sobre 2 Raiz de 2 Raiz de 2 Raiz de 2 Raiz de 2 Cancela Ficamos A raiz de 2 Opa Sim É o mesmo Tá bom? Tudo bem, tudo bem Não dá na mesma Como assim? Sim É isso? Bem Não dá na mesma Não entendi Você estava respondendo Ou de brenta Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Bom Não entendi Tá Ótimo Bem Então O primeiro que queríamos é Calcular É Encontrar R Sim O primeiro é Quem é R R Tem que verificar que T de R É nossa região D Portanto R vai ser T a menos 1 D T a menos 1 É isso que está aqui Então O que temos que calcular é E como é uma transformação linear Vai levar Polígonos em polígonos Portanto Para entender Quem são Tá, ótimo De nosso polígonos em polígonos em polígonos t a meno 1 di 0 meno 1 quindi per questo qui lo che facciamo è moltiplicare qui per un 0 che questo va a essere 1 sulla raiz di 2 1 sulla raiz di 2 per calcular questo qui moltipliciamo la matriz per 2 0 che va a essere raiz di 2 raiz di 2 significa questa è la prima coluna per 2 quindi due volte 2 sulla raiz di 2 è raiz di 2 e 2 sulla raiz di 2 è raiz di 2 poi per calcular questo qui lo che facciamo è moltiplicare qui moltiplicare sto facendo la seguente cuidado sto moltiplicando questo qui e ottenere questo numero qui moltiplicare la matriz per questo qui e ottenere questo numero qui e ora lo che sto facendo è moltiplicare la matriz per questo questo numero qui e questo mi dà questo questo numero qui che è qui è moltiplicare è la seconda coluna moltiplicata per meno 2 quindi quindi fica raiz di 2 meno raiz di 2 e per ultimo moltiplicare per 0 meno 1 a matriz per esse vector con questo otteniamo esse vector qui che è meno a prima coluna a meno a seconda coluna che è 1 sobre raiz di 2 meno 1 sobre raiz di 2 si quindi questi sono 4 vertici del parallelo del nostro parallelogramo quindi vamos a disegnare quindi abbiamo un zero raiz di 2 quindi abbiamo qui qui e qui quindi esse qui va a essere 1 sobre raiz di 2 1 sobre raiz di 2 esse qui va a essere 1 sobre raiz di 2 meno 1 sobre raiz di 2 esse qui va a essere raiz di 2 meno raiz di 2 e esse qui va a essere raiz di 2 raiz di 2 e la nostra regione dentro è un parerodramo, non è un parerodramo, disculpe, è il trapezoide questo è chiaro? per tutto il nostro trapezoide è questo qui, quindi poi scriviamo questo trapezoide come regione tipo 1, quindi come regione tipo 1 al progetare il trapezoide nel eixo di x otteniamo questo intervallo qui, che è questo intervallo qui è il intervallo 1 per la raiz di 2 e la raiz di 2, quindi il x varia tra trapezoide 1 per la raiz di 2 e la raiz di 2, sì? quindi e ora, il y varia tra il grafico di 2 funzioni di x, questa sarà una e questa qui sarà la altra, sì? quindi la prima, questa che sta qui è la reta che unica, sta dalla reta che unica questo è la reta che unica 1 per la raiz di 2, 1 per la raiz di 2 con la raiz di 2, la raiz di 2 è la reta di identità, sì? questo è il numero 1 per la raiz di 2, è questo? è questo? è questo? la reta che unica che unica questo punto che sta qui con questo punto che sta qui è la reta meno identità se fossero altri punti, magari avete bisogno di lavorare con le ecuazioni della reta, sì? ma in questo caso sono ben simplici, sì? sto liando due punti, vedendo che sempre ti abbia le messe coordenate, beh, qui i due punti sono la mia coordenata, e qui i due punti sono la mia coordenata, per tanto, questa è uguale a questa coordenata, questa è uguale a questa coordenata, quindi se si unica per una reta, deve essere la reta di identità, e questa che sta qui, la seconda coordenata è oposta alla prima coordenata, e qui anche, la seconda coordenata è oposta alla prima coordenata, quindi la reta che si unica è la reta meno identità. bene, quindi, questo ci dice che il y varia tra meno x e x, e questa è la regione R. è tutto? allora, allora terminiamo la prima parte. che segue? il jacobiano della transformazione, il determinante della matriz che definisce T, il determinante della matriz B, quanto è? è una rotazione, il determinante di questo qui è 1, quindi il determinante della matriz è 1, 3, calcular F di T di Uv, questo è F di E, quindi T di Uv è qui, qui abbiamo T, quindi T di Uv è questa matriz, 1 sopra la raiz di 2, 1 sopra la raiz di 2, meno 1 sopra la raiz di 2, 1 sopra la raiz di 2 invece Uv, questo è Oxy, quindi questo qui è U maiz B, sopra la raiz di 2 e meno U maiz B, sopra la raiz di 2. Quindi questo è X e questo qui è Y. quindi lo facciamo in F, dove dice X, trociamo per U maiz B sopra la raiz di 2 e dove dice Y, trociamo per meno U maiz B sopra la raiz di 2. Certo? Bene, quindi... Quindi... X più Y va a essere... X più Y va a essere... X più Y va a essere... X più Y, che è... Quindi... X più Y va a essere... X più Y va a essere... F di T di UB vai essere E a raiz di 2 per B sopra raiz di 2 U che sopra E a B sopra U. Quindi F di T di UB e E a U sopra B. E per ultimo la gente monta la integral dupla en D la integral dupla en D de E a Ys-Ys sobre Ys-Ys de A è ugual la integral entre 1 sobre raiz di 2 e raiz di 2 la integral entre meno X e X e questo è, disculpa, questo è che pensare con U e B questo è U e questo è B sì, questo è U e questo è il nostro U è uguale, io confundi, disculpa, io confundi la regione, le lettere. è uguale a B è uguale a B è uguale a B B sopra U veces o determinante 1 veces eh 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 e eh ok adesso hai oh 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 fico chiaro? no, se fico chiaro, vamos a cerrar rapido, valla che fu un poco rapido allora facciamo la quarta ciao